per me ed eccoci ritornati da zentú versiachi tommy eduano 181 e tommy dice di aver trovato finalmente l'ultima crita ma tommy dice tante cose quindi probabilmente sarà un altro buco nell'acqua fidati di me i dati di me me occhiali portatemi si si sto vedendo a prenderli d'argomento la pubblica e' ma adesso un'altra via esso sono andato giallata su quando l'inizio della caverna eccoci tommy e' chi non è che non hai cappellino come non ho dov'è dettagli sono ridicolo si sono fatti come devo mettermi a pensare venite seguitemi ok qui c'è un'altra volta che si chiama tommy lol c'è un cazzo di roba pagato dai chi si affega lo vedi solo te ok allora seguite tutti quanti tommy che è bravo un bravo esploratore lol il sorpasso di dettaglio nel pubblico non è un pubblico da rischio più a correre tu che se ne mette qualcuno di voi qualche video deve averci trovato in sto posto soltipo non abbiamo considerato sul momento e c'è passati di niente perché qui ci sono già le torce non hai messo te magari l'ammesso io non ne so alcuna ma c'era un'altra qua qua sto morrendo di fame qualcuno ad avanzare non si so se il soltino a mela si mela i need apple oh dove stai mani dove si va beh in diritto e cadi guarda aspetta i vecchi telecamera riprendi quel buco lì vado io vado io che sono il reporter di guerra oh keeper keeper ah ma si è ancora no 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 non l'abbiamo trovato noi eh no no questa non me la ricordo allora le torce ce l'ho già fatto togliete tutti gli mob spawner i mob spawner oh no oh no oh il disco d'oro la fece si combatte e si sono suicidati la mia impressione meglio togliete uccidete tutti mob spawner ok vado all'attacco eh eh prendete delle stade oh mio dio 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 dico essere nobile ho trovato uno anch'io io ho visto zombie mi blocco la dio però ho distrutto un coso sto per morire è morto dettore oh my god dettori is exploding is exploding dettori torno a cibo non mi perdono assolutamente che cazzo sto facendo in un altro modo ma adesso qua da dove si va scusa aspettatemi lol abbiamo trovato finalmente l'ultima caverna forse ascoltate dove ti devo andare non c'è più che altro da fare mi sembra un po' bruttino eh si ma non è quella l'ultima caverna mi sa dici no perchè io sapevo che c'entrava una caverna l'ultima caverna l'ultima caverna l'ultima caverna qua c'è la legge della terra boh tuttavia ho aspettato mi sono perso stavo abilmente facendo i cassini su internet comunque no 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 l'ultima caverna l'ultima caverna l'ultima è una cosa che insospettisce alquanto visto che c'è solo lì la terra dove non ho capito cosa stai dicendo eh in queste quattro cose no qualcuno mi aiuta mi sono perso ah vado a prendere dei toni ok qua c'è la terra te fai quel che vuoi non ho capito niente ma va bene qui c'è la terra per me c'è qualcosa c'è la terra eh io sto facendo una scala e cade sui ginocchi e dei toni sta arrivando lol 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 oh io scavo un po' qua ti avete il nome di qualcuno qui vieni dove c'è mio nome cosa sto facendo io intanto no è bloccato eccomi eccomi mi arrivo a prenderti stai tranquillo stefano ah vedo il suo nome eccole stefano da da via c'è solo una cassa di soldi praticamente sto male di famiglia si è solo una cassa stavo per spegnare di una vostra perchè non posso mangiare il lapisla assurdo è vero dove anche della noccia niente puoi scendere ho fallito miseramente la mia roba è qua per terra allora ragazzi io sto davvero di fame e quindi mi mangio la carne di pork che era l'obiettivo tanto vabbè dai si l'abbiamo completato eh diciamo che stiamo registrando appena ti manca un sacco di roba se lo io ce lo io cosa ti manca anche se lo fosse la spada al piccone è un sparo un piccone non ce l'ho le spade ci sono tre cosi o ma lei è già visto tutto sì ma non lo sappiamo più dobbiamo andare c'è un po' tempo su 4 stade ma non sa che me che non è l'ultimo senso ma quanto allora la metodoria di portmangolo e quindi cosa di cosa dissi come si fa che a stare una con una qualcosa per accenderla perchè chiedi a chi ha detto tipo che qui c'è la terra e allora se non gli piace perché si guarda in tutti gli altri cose c'è la pietra no ma forse una cazza no di sicuro io sono di una paverna dici oh via ho la chiediti via sta per esplodere a tutti stavere esplodere via sta per esplodere so come c'è si siete cascati via sta per esplodere via via che via la spazia boom boom ho fatto il buco c'è la caverna tommi la lava tommi di da lì vabbè 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 chiudete la lava 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 no no oh mio dio il tommi è morto il tommi è morto il tommi è morto ma no ma ma questa qui non è la caverna guardate hai lavato il vecchio dungeon qui siamo ai 7 minuti io aiuto per morire aiutatemi per favore non c'è affare a poter guardare tecnici su co ah mi pure sto fare il video mi dispiace la tua morte continuerà nel prossimo episodio mi piace sono vivo sono vivo peccato mettete mi piace commentate iscrivetevi da gentubre se tutto yaki tommi è morto e vai possiamo finire l'episodio alla prossima ciotere a la le si chi è